Posso? Antonio Maculan, nato in Giunolona, 3940. Da bambino ho sempre avuto il piacere di lavorare nel dolce e sono stato assunto alla pasticceria a ghiaccia di Varese il 14 febbraio del 1954. Ho servito tutti i più ricchi di Varese, i trolli, i bambini, tutti i ricchi, la cattiera sterce, lavoravo sotto i portici, ho fatto tanti anni di imparare un mestiere e adesso ho aperto io la pasticceria insieme al mio figlio, è un bravo ragazzo, molto bravo, la mia famiglia mi ha aiutato tutti insieme, i fratelli, eravamo sei fratelli, poi l'uomo è cresso, il primo della serie Don Giovantista Macula. Allora, oggi siamo qui, Attilio Fontana l'ho visto nascere e da bambino il suo papà era un mio medico in famiglia che veniva lì in casa, io portavo il latte dalla mucca che mingevo, otto anni portavo al papà e alla mamma del dottor Fontana, che era un capitano degli appigli. Oggi sono contentissimo perché abbiamo festeggiato questa festa che è il Natale, il Natale insieme al grande guarnatore Appiglio che con grande gioia e con grande amore è rimasto qui insieme a tutti noi. Viva noi, viva la pasticceria Macula e via il mio fratello e il mio fratello e il mio fratello che mi serve sempre. Ciao a tutti, grazie e viva la pasticceria Macula. Grazie.